Buongiorno a tutti. Continuano ad arrivare le pronunce del Tarlazio sui numerosi ricorsi proposti in materia di graduatori provinciali per le supplenze. Sono diverse le pronunce negative del Tar, in primo luogo su tutti i ricorsi con cui si rivendicava l'accesso in prima fascia delle GPS da parte degli aspiranti che è in possesso del titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso e che avevano maturato anche i 24 crediti formativi ulteriori, i quali sostenevano di avere quindi un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento. Stessa sorte per i ricorsi proposti da quanti avevano maturato anche 36 mesi di servizio e che, secondo una giurisprudenza del Consiglio di Stato, dovevano ritenersi in qualche modo abilitati e quindi al pari di coloro che avevano l'accesso alla prima fascia. Nemmeno chi aveva il titolo congiunto, cioè sia i 24 crediti formativi oltre al titolo di studio di eccesso ed aveva anche maturato i 36 mesi di servizio, ha avuto più fortuna in questi ricorsi. Quindi in primo grado il Tar Lazio ha totalmente chiuso le porte, addirittura dichiarando in molti casi inammissibili altri ricorsi proposti in forma collettiva, ritenendo che le posizioni tra i vari ricorrenti fossero tra loro non conciliabili, quindi non omogenee. Oltre a queste pronunce di carattere generale intervengono anche pronunce su casi singoli, casi specifici, che anche queste purtroppo non sono positive per le posizioni dei ricorrenti. È recente una pronuncia del Tar con cui si è respinto un ricorso proposto da un candidato che in sede di compilazione della domanda online aveva dimenticato di flaggare nel modulo l'indicazione dei titoli di servizio già maturati e già acquisiti al sistema informatico del Ministero. Secondo il Tar, tuttavia, nonostante il ricorrente abbia invocato il principio del soccorso istruttorio previsto dalla legge 241.90, questo principio non sarebbe applicabile al caso specifico perché proprio la mancanza dell'allegazione di questi titoli alla domanda di inserimento nelle GPS non colmerebbe la lacuna rappresentata dal non aver flaggato l'apposita casella. Quindi, secondo il Tar, il principio del soccorso istruttorio potrebbe intervenire solo qualora questi titoli fossero stati allegati. Vedremo come andrà innanzi al Consiglio di Stato in sede d'appello. Arrivederci. Grazie a tutti.